A volte è nelle difficoltà che si riesce a fare più di quanto si possa pensare. È questo il leitmotiv che questa mattina ha caratterizzato il discorso della dirigenza dell'Aquila Calcio alla squadra. Il presidente Corrado Chiodi, il suo vice Massimo Mancini e il tecnico Carlo Perrone hanno parlato ai giocatori prima dell'allenamento sul campo di Acquasanta, dando loro coraggio e motivazioni in attesa della sentenza della giustizia sportiva, che all'inizio della prossima settimana decreterà i punti di penalizzazione in classifica per l'inchiesta sul calcio scommesse. In sostanza, uniti e compatti dal primo all'ultimo, si può compiere l'impresa di salvare la Lega Pro a dispetto dei punti di penalità. Una missione solo per uomini veri, come ribadito poi dal capitano dell'Aquila Claudio De Sosa, che dopo gli interventi di tecnico e società ha preso la parola per promettere a nome dei compagni il massimo impegno in campo, e per cercare di tenere lontane le vicende giudiziarie. Intanto, passando al mercato, si aspetterà la prossima settimana per ufficializzare l'arrivo di Emanuele Pesoli. Il motivo del ritardo? Un piccolo problema muscolare al polpaccio, che permetterà all'ex difensore del Pescara di essere disponibile non prima di una decina di giorni. Da segnalare inoltre la presenza da ieri di un nuovo difensore. Si tratta del giovane croato, classe 1997, Tony Farias, che questa mattina ha conosciuto personalmente il presidente Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini.